Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video dove oggi, come potete vedere dal titolo, vi presento una mia amica. Vieni, non ti preoccupare, è molto eccitata. Ciao, come ti chiami? Giulia. Allora, che ti piace fare? Sire? Sì? E mi piace anche molto il mio sport che faccio a Napoli, cioè la danza plastica. Ok. E hai qualcos'altro? Basta, noi andiamo, dai. Basta. Ehm... 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 Non era niente altro. Per questo video possiamo concludere qui. E vorrei... 150 secondi, ok? E per questo video possiamo concludere qui. Ciao!